Ehi, sono io, Garrett. Hai un minuto? Mi stavi chiamando, Garrett? Sì. Visto che mi hai aiutato con la piuma di fu per appozioni, credo che tu sia la persona di cui ho bisogno. Ti spiego. Ho avuto un'idea per una bevanda ispirata alle api frizzole, ma mi manca uno degli ingredienti principali. Tu e le tue misture. Non so proprio come ti vengano in mente certe cose. È un dono, davvero. Allora, sospetto che l'ingrediente chiave delle api frizzole siano i pungiglioni di billiwig essiccati. Ho saputo che ce ne sono un po' nella cantina di Mielandia. Lo andrei a prendere personalmente, ma zia Matilda mi tiene d'occhio. Vuole che mi concentri sulla lezione di pozioni, non sui miei distillati. Seguiresti un passaggio segreto fino alla cantina di Mielandia per portarmi un po' di pungiglioni di billiwig essiccati? A fare fatto. Avere una rapida via di fuga dal castello potrebbe sempre tornare utile. Perfetto, grazie. Però sappi che non è esattamente rapido. La cosa utile è che è segreto. Il passaggio è nascosto dietro la statua di una strega orba nel corridoio del terzo piano. Toccala con la bacchetta e di Dissendium. Non potresti farti comprare quei pungiglioni da qualcuno? Non sono in vendita e non si può mai sapere quando la cantina verrà chiusa. Quindi l'unico modo per entrare e uscire è il passaggio segreto. Mi stai chiedendo di derubare un negozio? Santo cielo, non ti sto mica chiedendo di svaliggiare la Gringot. Mielandia ne ha in abbondanza e a me ne serve solo qualcuno. È un ingrediente per dolci. Credimi, non se ne accorgerà nessuno. Vedrò cosa posso fare, Garrett. Va bene. Se ce la farai, sarai la prima persona ad assaggiare il mio nuovo distillato. Forse posso convincere Amit ad aiutarmi coi compiti di pozioni. Così mia zia allenterà un po' la morsa. Dovrò procurarmi quei pungiglioni di billiwig secchi se voglio che Garrett termini la sua nuova pozione. Non sarà difficile trovare la statua di una strega con un occhio solo. E se rimane così? Scherzi! Ma che sciocchezze! Poche ore passerà, credo. Quell'altra ragazza... Sembra la statua giusta. Qual era la parola d'ordine? Dissentium! Che posto incredibile. Chi l'avrebbe mai detto? Un montacarichi. Ecco come scendere. Però sembra rotto. Asso! Depulso! Confrigo! Devo riparare il montacarichi prima di poterlo usare. Repare! Sembra che abbia funzionato. Questo castello non cesserà mai di sorprendermi. Confrigo! Confrigo! Sono in trappola. Come faccio a uscire da qui? Con Fringo! Devo riuscire a passare oltre. Repare! Le dio... Confringo! Ancora un ultimo sforzo e potrò passare. Riparo! L'Ebiota! C'è qualcosa che intralcia quella piattaforma? L'Ebiota! 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 Sento odore di dolci. Mielandia deve essere vicina. A volte sembra che tutte le strade portino a Hogsmeade. Mielandia. Sento il profumo di cioccolata. Dove saranno quei pungiglioni di billy wig che servono a Garrett? Reveglio! Ho i pungiglioni di billy wig secchi. Devo tornare da Garrett. Chissà come sarà questa sua nuova ricetta. L'Ebiota! 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 Uggenno! La mia città! L'Ebiota! Grazie per la visione! E ora che combini! Salve di nuovo! Sei riuscito ad andare a Milandia? Ciao Garrett, ho i pungiglioni di Billy Wig che volevi. Davvero? Incredibile! Felice di averti aiutato. Ecco a te. Fantastico! Non vedo l'ora di iniziare. Di nuovo grazie. Ti farò sapere quando avrò distillato il primo lotto di frizzo birra.